Musica Io ho tentato anche di sapere un po' come fosse Gifoni però niente ha potuto prepararmi per quello che ho visto oggi è stupendo, è molto molto bello, con un'energia incredibile Ma in realtà Gifoni ti entra nell'orecchio a poco a poco ogni anno c'è il Gifoni, poi ti informi e scopri che è un posto che non è proprio al centro del mondo, dello spettacolo e più ti arriva l'indizio e dici, ma non è possibile una cosa del genere e come dicevo mentre veniva in macchina è un festival semplicemente incredibile cioè che possa nascere in un posto, fuori dai giri dello spettacolo un festival particolare come questo qua What I would say to all the young people from different parts of the world today is this is a marvelous situation Gifoni to be able to meet young people from different cultures before you've been taught to hate by older people and you see the similarities that you have and then you also celebrate the differences of each of your cultures So perhaps a Macedonian girl can learn about a Finnish fairy tale or an Israeli boy can teach a boy from Pakistan about his food and a boy from Pakistan can teach the Israeli about his food but know that we all are all one and we come from the same story and that story is man and woman and it's how we express that that makes it so exciting So there's a reason to love and not to hate I think as long as you follow your heart and your dreams and you stay true to yourself and you educate yourself and you stay interested that will lead you to all the beautiful destinations that you could possibly want to find I gather there were some children from Palestine eating with some children from Israel So that's how it should be Diofony was fantastic because it's not only about the movies È un'esperienza, un'esperienza culturale, una cosa che fa memori e ci fa crescere in un modo che altre cose possono. Voi siete bellissimi, e sono escizionante, e sei il futuro, e sei parte di un mondo oggi dove tutto ciò che puoi immaginare è possibile. Ciao Giuffone! Buongiorno! Being a juror in Giuffone is something that is uncomparable to anything else. Gifone for me is a lifetime experience. E l'ho trovata un'esperienza davvero unica, divertentissima poiché ho conosciuto molte persone di parti diverse d'Italia e del mondo, ma soprattutto molto coinvolgente e stimolante perché tutti questi ragazzi, i miei coetani, sono legati dall'amore per il cinema. Mi piace Giuffone perché insegna a tutti che essere diversa è ok, e che guardare diversa, agire diversa, parlare in una forma diversa, è assolutamente normale. E questo è quello che è importante per questo festival. Questo è fantastico! Questo è fantastico! Ciò che dovrebbero essere molti, molti, molti festivali, ma ora Giuffone è l'unica. E il mondo sarà ascoltato alle voici che vengono dal festival Giuffone. Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti.